Ciao, siamo qui con Ierro, capitano della squadra vincitrice. È stata una partita un po' sofferta. Avevo tempo, 5 a 1, molto tempo. Poi l'avete confusa 6 a 4, l'avete chiuso negli ultimi due minuti. Mi ha sofferto molto, sapevamo che portavamo la coprolista, una signora squadra che negli anni passati veniva un po' più attrezzati, ha fatto il giro delle battaglie, siamo molto contenti. Abbiamo dato il massimo, mi ha sofferto un minuto da squadra, da amici. Bellissima esperienza, bellissima partita, siamo molto contenti, molto contenti. Prognostico per la prossima partita? Prognostico, abbiamo iniziato un pochino col singhiozzo, adesso siamo riprendendo il cammino. Cerchiamo di arrivare tra i primi 4 e se riusciamo a passare bene. Sì, sì, dai, tanto è l'ho previsto. Vi diamo un buono regalo da 50 euro da WeRoad, sponso ufficiale di Zona Bolle. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.